Abbiamo abolito il finanziamento pubblico ai partiti e abbiamo ridato ai cittadini la libertà di scegliere se finanziare o meno la politica. Anche quest'anno puoi sostenere il Partito Democratico devolvendo il 2 per 1000 della quota IRPEF in sede di dichiarazione dei redditi. Scrivi M20 nello spazio dedicato al 2 per 1000 e firma accanto. A te non costa nulla e resta invariata la possibilità di devolvere il 5 per 1000 e l'8 per 1000. Anche con il 730 precompilato puoi donare il 2 per 1000. Se non hai l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi scarica la scheda dal sito dell'Agenzia delle Entrate o dal sito del PD. Dona il 2 per 1000 al Partito Democratico. Restituisci alla politica la dignità che merita.